ben ritrovati non so in che qualità verrà questo video ma ho un problema con la telecamera portatile quindi devo utilizzare quella del pc poi vedrò se riesco a ripararla ma in questo periodo voi sapete bene che essendo tutti blindati in casa c'è poco da fare ovviamente i casini succedono sempre nei momenti peggiori ma veniamo a noi veniamo a noi e parliamo di libri oggi vi voglio parlare di un libro che io ho trovato semplicemente stupendo il libro in questione l'angelo di monaco di fabiano massimini due note sull'autore fabiano massimini laureato in filosofia e nato nel 1977 in quel di modena è scrittore traduttore e ha collaborato con diverse case editrici nel 2017 ha vinto il premio tedeschi per miglior giallo inedito con il club monte cristo che io ancora non ho letto ma che ho già in wish list e grazie a dio almeno le cose online si riescono ancora ad acquistare soprattutto i libri elettronici ma veniamo a l'angelo di monaco che è un libro di 485 pagine edito da longanesi per un prezzo di copertina di 18 euro e che potete trovare in formato elettronico a 9 euro e 99 chiuse le informazioni tecniche passiamo al romanzo in sé il romanzo in sé può essere tranquillamente catalogato come thriller storico ossia basato con documenti reali su una vicenda realmente accaduta viene narrata tutta la storia in una maniera romanzata ma fatti personaggi e situazione sono assolutamente reali che cosa succede succede che nel settembre del 1931 a monaco di baviera il commissario siegfried sauer viene mandato ad investigare su una cosa che è successa in prince regenten strassi no che prince regenten strassi prince regenten platz civico 16 un indirezzo che penso molti dirà poco o nulla in realtà in prince regenten platz 16 c'era l'appartamento di adolf hitler ebbene proprio nel suo appartamento è stato ritrovato il cadavere di una giovane donna questa giovane donna che si chiama angela raubal detta ghelli e ghelli altri non è che la nipote di adolf hitler figlia della sorellastra perché in comune con adolf avevano solo il padre ma figli e di due madri differenti questa angela sorellastra ad adolf ebbe a sua volta una figlia che venne chiamata angela a sua volta detta ghelli ebbene adolf hitler ne divenne il tutore e l'inchiesta cercherà di scoprire che cosa sia accaduto anche se all'inizio le cose sembrerebbero tutte molto chiare la ragazza secondo quanto riferito dalle persone che l'hanno trovata si è chiusa a chiave nella sua stanza e si è suicidata sparandosi un colpo di pistola e con che pistola con la pistola che zio adolf da lei chiamato alf teneva nel cassetto del comodino della sua camera da letto quindi si presume che la ragazza sia andata nella camera dello zio abbia preso questa pistola sia tornata nella sua stanza ci sia sia chiusa dentro si sia sparata questo colpo di pistola e si sia quindi suicidata ma nel prosieguo delle indagini si comprenderà che le cose così proprio non sono andate che dire la trama è interessantissima anche perché ci sono continui colpi di scena adolf hitler in quel momento dove era adolf hitler nel momento della suicidio della amatissima nipote era in viaggio verso norimberga dove avrebbe dovuto tenere un comizio e alla notizia di quanto accaduto a ghelli si è precipitato di nuovo a monaco ma ma ci saranno molte cose che non inquadreranno ovviamente a questo commissario verranno fatte molte pressioni affinché l'indagine venga conclusa dal momento in cui lui viene allertato nel giro di massimo otto ore una cosa assurda assurda in qualunque periodo e situazione ancor più assurda all'epoca ma è anche vero che qualcosa sta succedendo cosa sta succedendo sta succedendo che in germania nel 1931 dalla repubblica di weimar ormai sta crollando miseramente e si sta affacciando sempre più prepotentemente sulla scena politica la figura proprio di adolf hitler ecco quindi che attraverso le pagine di questo romanzo noi scopriremo non solo la vicenda privata di adolf hitler e della nipote ghelli ma scopriremo anche tutta quella oscura trama che si stava tessendo per l'intera germania a livello politico per far sì che arrivasse poi al potere ahimè adolf hitler e il nazismo è una ricostruzione storica stupenda una storia narrata in maniera lucidissima documentata e che ovviamente ha delle digressioni appunto romanzesche perché parte di certe deduzioni di certe di certi risvolti se così si possono definire sono frutto dell'autore ma non frutto di una fantasia lasciata libera ma quelle chiare supposizioni che qualunque persona dotata ad un minimo di razzocinio sarebbe portata a fare proprio davanti a delle incongruenze lampanti che a tutt'oggi non sono ancora state chiarite una curiosità su tutte la tomba di ghelli raubal non si sa più che fine abbia fatto si è finita da una parte traslata dall'altra e poi non si sa più nemmeno dove si è finito il suo corpo o i suoi resti mortali ecco un romanzo che vi consiglio intanto perché si legge veramente in una maniera estremamente piacevole perché lo stile è chiaro limpido scorrevole coinvolge il lettore fino dalle prime pagine perché il continuo susseguirsi di colpi di scena che non sono voluti solo per fare così da attrazione al lettore ma perché proprio sono l'evolversi della vicenda che di volta in volta rivela vari aspetti più o meno celati di tutto quello che si nasconde dietro questo suicidio sempre che si di suicidio si tratti che insomma una prova d'autore veramente da applauso a me è piaciuto tantissimo ma è piaciuto come è stato scritto ma è piaciuta la ricostruzione storica dopo poche pagine veramente vi trovate immersi in questa situazione in questa atmosfera che vi sembrerà veramente più che di leggere un romanzo di vivere accanto all'investigatore Siegfried Sauber tutta questa inchiesta vi muoverete con la con questo desiderio spasmodico di portare una verità che non sia una verità di comodo o costruita a tavolino perché così deve essere e nessuno deve essere toccato da questa tragedia ma perché bisogna dare giustizia comunque alla morte di una giovane ragazza che aveva tutta una vita davanti e che improvvisamente è morta suicida assassinata non ve lo dico stavo a scoprirlo leggetevi questo bellissimo romanzo vi ridò assolutamente gli estremi allora fabiano massimi l'angelo di monaco casa editrice longanesi 485 pagine prezzo di copertina 18 euro 9 euro e 99 nel formato elettronico con questo è tutto ci rivedere ci rivedremo presto per un video in cui vi parlerò di due libri che sono collegati perché parlano del medesimo argomento e che espongono due punti di vista differenti per meglio dire due modi di affrontare l'argomento in maniera diversa appunto ma che arrivano sempre alla stessa conclusione ma questo sarà l'argomento del prossimo video come ultima cosa mi raccomando abbiate cura di voi state a casa io non ho problemi a dirvelo sono chiusa in casa dall 8 marzo sono uscita tre giù sabato scorso o venerdì tempo di uscita cronometrato perché io sapete questi orologini questi qua tutti 10 minuti giusto il tempo ahimè ho questo terribile vizio del fumo di correre dal mio tabaccaio che su mia telefonata aveva già preparato quello che mi serviva quindi io sono entrata lui mi ha fatto trovare il sacchetto con le sigarette sul tavolino io ho appoggiato i miei soldi ho preso il sacchetto sono tornato a casa di corsa mascherina ho buttato la mascherina ho tolto il giubbotto l'ho buttato in lavatrice mi sono lavato ho fatto anche lo shampoo cioè io magari arrivo la paranoia però ragazzi non si scherza veramente non si scherza telefono quindi un bacione e arrivederci a presto ciao